Sono tipo le 6.12 e ovviamente ho rimandato la sveglia e mi devo spiegare, cioè voglio fare le cose con calma quindi andiamo Grazie a tutti. Allora, questo è un mio outfit, molto semplice, questa maglietta bianca qui di Mango, con questo pantalone, zampa di elefante di Stradivarius. E poi aggiungerò maglietta di Gucci, qui sono i trucchi, ve lo farò vedere indossato e adesso vi farò vedere anche quali accessori metterò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 6,50 e adesso devo fare regolazione, lavarmi i denti, sistemarmi i capelli e poi sarò pronta. Quindi diciamo che sono in netto anticipo, questo è bene perché così posso chiederti nel tempo. Però intanto facciamo il letto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh partigiano, portami via. Grazie a tutti. 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 Ok. Wow. Grazie a tutti. per le 8.15 e sono le 7.24, quindi siamo in pieno orario. Comunque oggi è martedì, non lunedì, e la mia scuola inizia così tardi perché il primo giorno, almeno nella mia scuola, è tipo un giorno di inserimento per i primini, ovvero solo le prime di scientifico, classico e tutti gli altri, vanno a scuola, fanno il giro della scuola senza essere disturbati da noi, quindi entriamo il giorno dopo e non so se già ve l'ho detto, però comunque qua alle 8.30, esco alle 11.30 e niente, ho detto solo dovevo dire e ci vediamo dopo. Ma questa è Lara! Devo sconfiggere l'inemico. Sono tipo 7.42-43, vincerò l'orario sullo schermo. Ho aggiunto gli occhiali come scarpe Christian Smith. il mio zaino se lo volete vedere, vi lascio il video qui sopra, mi pare, qui, dove vi faccio vedere tutte le cose che ho acquistato per il ritorno a scuola. Comunque, è una bellissima giornata, c'è il sole, cielo libero, per questo sono contenta e neanche perché rivedrò tutti i miei amiglietti, però per il resto non mi va per niente di andare a scuola, di ricominciare a studiare, verifiche interrogazioni. però che devi fare. E niente, forse vi inserirò qualche clip di mentre vado, cose così. ci vediamo dopo. 3 ore dopo Ok, allora, eccomi qui, sono tornata, è mezzogiorno ai venti se non sbaglio, e ci ho messo così tanto perché diciamo che io per andare a scuola ho un tragitto abbastanza lungo da fare. e diciamo che me l'aspettavo meglio, cioè non pensavo che già il primo giorno iniziassimo comunque a spiegare, andare avanti col programma, ad esempio in biologia, abbiamo fatto i gameti e tutte queste cose, oggi che è il primo giorno di scuola, pure con inglese abbiamo fatto un'interrogazione orale, anche se non ha il voto però. e ho avuto francese, inglese e biologia, però biologia sempre in inglese. e siamo andati avanti, ci hanno un po' spiegato che comunque il terzo di solito è l'anno più difficile per i studenti, non c'è diciamo un impatto graduale, ma sarà direttamente passi dallo studiare tre lingue e basta, allo studiare la storia, la letteratura e la filosofia di tre lingue, quindi diventano quasi sei materie e diciamo che non sono mentalmente pronta perché mi sono resa conto che avrò un sacco da fare, poi inizieremo ovviamente a fare attenanza scuola-lavoro, parlare di credit, tutte queste cose e ci hanno detto che comunque dobbiamo fare il minore il numero possibile di assenze, cioè praticamente ti hanno detto pure se hai la febbre vieni, perché il il voto del comportamento influisce molto sulla media e la media è quasi la base dei crediti, infatti adesso voglio un po' cercare i modi per acquistare i più crediti possibili, mi hanno detto che tipo con gli esami di lingue che io farò quest'anno, ovvero il DELF B1 e il DELE sono già dei crediti e poi farò un altro esame con una scuola privata d'inglese che io frequento che sarà un livello B2 e quindi verso la fine dell'anno ci hanno detto di portare comunque tutti gli attestati queste cose, poi ho l'intenzione di comunque prendere il brevetto da bagnino che saranno altri crediti e ci hanno anche spiegato come funziona se magari andiamo a lavorare e vogliamo che anche quelli diventino dei futuri crediti e è tutta una cosa strana, devi tipo fare un minico contratto con la scuola però prima devi chiedere al dottore di lavoro se comunque è d'accordo o no e quindi ho l'intenzione comunque di accumulare il maggior numero di crediti possibili, non so come vanno contati se ad esempio un esame vale 1 oppure vale più crediti, non lo so, infatti adesso voglio un po' vedere, ci hanno già dato dei compiti da fare, non si sa per quando perché non abbiamo ancora l'orario e dobbiamo fare tipo una produzione scritta di francese e poi preparerò il... adesso andrà a mangiare, mi fermo un attimo non sono stanca però diciamo che ho il cervello che sta elaborando un bel po' di cose e stavo dicendo adesso vedrò diciamo la lista dei crediti così l'avrò fino a un quinto e magari cancellerò i modi in cui li posso ottenere, poi devo riorganizzare il quaderno d'inglese perché prima facevamo il corso Cambridge ma adesso faremo letteratura quindi tolgo la parte di Cambridge e tutte queste cose mi faccio una schema del piccolo principe perché ha detto che faremo una verifica di francese molto dettagliata quindi magari mi rivedrò il film adesso e farò una mappa concettuale perché tra due settimane abbiamo il computer in classe mentre tra tre settimane ho l'esame orale d'inglese, poi ho lo scritto e poi ho il listening e niente, diciamo che questo periodo sarà abbastanza pieno di cose da fare e poi basta, credo che non farò più niente oggi ricopierò gli appunti di biologia e tutti gli appunti comunque che ho preso oggi e poi dovrò andare a comprare un diario perché non ce l'ho e niente, sono già 5 minuti che parlo quindi direi che è abbastanza come sempre vi lascio i link di alcuni prodotti magari che ho usato prima per truccarmi eccetera qui sotto insieme ai link dei miei social qui da qualche parte sarà spuntato il mio profilo instagram andatemi a seguire e niente, ci vediamo alla prossima grazie